ciao a tutti sono donatella pensalfine titolare della gastronomia sale grosso di violenza 36 da qualche mese sto facendo la pubblicità con rossini tv e mi sono trovata molto bene e ho trovato dei riscontri molto positivi nei clienti a cui è piaciuta molto anche la pubblicità e ci hanno anche scoperto grazie a questa con lo staff mi sono trovata molto bene molto disponibili molto gentili molto collaborativi e quindi visto i risultati positivi consiglio vivamente rossini tv per la pubblicità delle nostre attività sale grosso la qualità del ristorante la comodità della gastronomia